Buongiorno, mi chiamo Graziella e sono di Sassari e ho deciso la mattina stessa insomma di fare questo intervento. Un po' spinta dalla disperazione perché insomma per la verità senza dente non è possibile. Io alle tre ero già a casa mia, alle tre, guardi me lo sono segnato, alle tre. Ha iniziato qua verso le otto e mezza mi pare e alle tre ero già a casa. Sia su che giù, sia su che giù. Non ho sentito niente né prima né dopo né durante insomma. Sono stata bene, eravamo vicina a Natale per giunta, quindi un po' la mia preoccupazione era il non partecipare al pranzo di Natale, attivamente voglio dire. Sono molto più serena, più tranquilla e ti senti anche più accettata tu naturalmente e mi sembra che anche gli altri mi accettino di più ecco, per amore, un po' per cosa, per l'aspetto e quindi sono venuta qua. Effettivamente è stato così insomma, mi sono trovata molto bene, molto 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 bene guarda. Non ho più paura di sorridere. Grazie.